siamo qui con parsi dell'empoli mercai sconfitta in questa seconda giornata contro una squadra sicuramente forte però avete comunque disputato delle ottime partite quest'oggi sei soddisfatto della della giornata dei tuoi compagni sì perché comunque abbiamo avuto un compagno nostro che si ha fatto male nella prima partita quindi abbiamo giocato più di un tempo in sette invece che in otto però tutti abbiamo dato il massimo al di là del risultato c'è anche il comportamento che potrebbe essere valutato molto buono visto che nessuno ha fatto con altre società che ha detto merda quando hanno segnato no sicuramente dal punto di vista del comportamento da elogiare anche una squadra compatta che si era aiutati l'uno con l'altro non sono arrivati i gol in quest'ultima partita però comunque avete giocato contro la squadra di valore avete messo in campo buone cose un palo nel finale che poteva riaprire qualcosa quindi sicuramente bilancio positivo di queste prime due giornate poi ecco essendo le prime due magari sono solamente l'inizio con il giusto comportamento la giusta determinazione si può fare tanto grazie mille